E' la storia di un microcosmo siciliano fatto di omertà, violenza e presunzione, dove si racconta la potenza e il culto dell'immagine. E' Immacolata Concezione, spettacolo prodotto dalla Fondazione Teatro di Napoli e che ha come protagonista la compagnia Vuciria Teatro. Al Piccolo Teatro della città di Catania, Federica Carruba Toscano, Alessandro Lui, Enrico Sortino, Gioela Anastasi e Evano Picciallo hanno incantato il pubblico con le loro interpretazioni. La storia è ambientata nella Sicilia del 1940 e racconta la vicenda di Concetta, ragazza silenziosa e innocente, barattata dal padre caduto in disgrazia con una capra gravida e affidata a Donna Anna, la tenutaria della casa del piacere del paese. Lei, del tutto estranea a questo mondo, non oppone nessuna resistenza. Ben presto la fama della nuova arrivata raggiunge tutto il paese. Nessuno però sa di preciso perché Concetta faccia impazzire così tanti clienti, visto che nessuno di loro l'ha mai toccata. La ragazza infatti conserva la sua purezza, ha però un dono, quello di sentire l'anima dei suoi clienti, rendendo possibile la loro fragilità nascosta. Una storia di grande impatto emotivo, dove il corpo vivente viene disumanizzato e dove spiritualità e carnalità si incontrano. Affirmare la drammaturgia e la regia è Gioela Anastasi. Siamo alla vigilia dell'ingresso dell'Italia in guerra e questo è uno scenario che in qualche modo ci colloca indietro del tempo ma ci dà l'opportunità di riflettere su quello che è in qualche modo un avvenimento storico che è impresso nella memoria collettiva da un po' di tutti noi come uno dei più recenti e forti avvenimenti in cui abbiamo una vera testimonianza di come il corpo di un individuo, di un essere umano viene reificato in sostituzione di qualcos'altro. Allora il corpo di Federica si fa un simbolo un po' di quella che è la sofferenza di un'umanità ma di un femminile anche che viene strappato. Allora il corpo di Federica